Grazie Presidente. Praticamente alla sua metà mezzo chiedo che disponga di un'edistruazione invece della proposta, perché è l'ordine del giorno. Una, della proposta che è l'ordine del giorno. Loro hanno presentato, no, scusi, c'è una nozione che è l'ordine del giorno. Io chiedo che vede gustata perché è l'ordine del giorno. Ecco, allora non breve, non leggermente modificata, ma nel suo punto di vista. Dopo, se rispetto a questa proposta ci sono dei gruppi all'ordine del giorno, modifiche che sta bene che vengono mostrate, in fase successiva, no, come finalmente chiedo che venga mostrata la mozione messa dove è l'ordine del giorno. Grazie. Chiamo, se siete sull'ordine del giorno, visto che l'ordine del giorno si chiede a tutti, ma che vengono mostrata. Sono due singole precisazioni che ha fatto la presenza di commissione quando sono state presentate in commissione. Però, per l'ordine del giorno si chiede a tutti, ma che vengono mostrata. Grazie. 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 Grazie a tutti i bieni dell'ordine del giorno, riprztata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.